musica che sono nuovi sono patata rastita e oggi siamo su un nuovo gioco zombie idle defense allora ragazzi ve lo spiegherò un po' in breve come gioco è semplice allora innanzitutto di che si tratta si tratta ovviamente di difendere la base da attacchi zombie abbiamo varie modalità adesso ci sono degli eroi appunto che difendono la base che sono il punker, lo squiller, il big daddy il red aglias poi ce ne sono altri due che ancora devo sbloccare per ogni eroe si possono mettere si possono attribuire delle armi per esempio la k47 la pistola, il pompa o il cecchino che ancora non ho gli eroi si possono migliorare con le cards o carte in italiano infatti questo qua c'erano due stelle ognuno degli eroi ognuno degli eroi ha un'abilità come per esempio il punker lancia una bomba la squiller lancia dei missili il big daddy lancia una bomba che elettrifica gli zombie e non li fa muovere il red aglias il red aglias lancia tipo un raggio che li sposta via inoltre fa danno poi per ogni volta che si va a migliorare c'è un'abilità in più come per esempio questo del red aglias che appunto l'ho migliorato e ha un'abilità in più solo che questa cosa la devo ancora un po' più perfezionare dicevo devo capire cosa è ovviamente ci sono le armi che poi puoi fondere per potenziarle qua c'è la mappa dove ci sono varie mappe la new york city la chicago city la dallas city la las vegas city la london la beijin l'hong kong insomma ci sono varie varie città in cui puoi giocare andando avanti col gioco c'è un'altra poi modalità landless che man mano che vai avanti con i chilometri ti dà sempre più loba carte personaggi qua c'è la ricerca dove vuoi fare la rincarnazione una cura e poi qua puoi trovare delle torrette armi munizioni e cose del genere ovviamente c'è lo shop dove appunto ci sono le casse che non lo so magari nella prossima puntata andremo a spacchettare e adesso insomma vi ho detto quasi tutto c'è la city taz che ti dà cose extra diciamo come monete che servono per migliorare poi ci sono ehm degli ingranaggi che servono per migliorare le armi e poi ci sono le pillole che servono appunto per la cura poi abbiamo una sorta di battle pass se possiamo dire una sorta di battle pass che vi faccio vedere subito che qua invece si chiama star reward lo star reward ti fa appunto dare dei reward fino a un tot poi smetterà ma penso che man mano che continuerà nel gioco lo faranno diventare sempre più in alto con cose sempre più rare ragazzi perché ovviamente poi diventa sempre più difficile ci saranno cose sempre più rare qua ci sono i pacchetti speciali dove ti danno cose scontatissime il daily gift che presto poi finirà per me è già finito ma adesso ragazzi direi di andare in gioco e spiegarvi le altre eccoci in gioco qua ci sono sette orde che dobbiamo appunto difendere allora vediamo un po' come vedete nel mentre che si sta giocando si possono migliorare i personaggi cosa che io di solito non faccio ci sono gli aildrop che ti aiutano droppando anche qualcosa qua potresti migliorare questo che sarebbero tipo delle diciamo dei colpi extra che puoi fare qua sotto come potete vedere ci sono le abilità che adesso vi andrò a far vedere la prima che è il bunker appunto lancia come potete vedere una bomba la seconda la squiller appunto lancia dei missili il terzo lancia appunto la granata stordente che sordisce gli zombie per un po' di secondi e appunto lui re deias lancia questo diciamo palla di energia possiamo chiamare e adesso scusate ma vorrei provare questa che sinceramente non so cosa faccia ma non me la fa provare lo farò off camera andiamo avanti ragazzi allora come vedete là in basso ci sono le monete e i soldi qua possiamo fare cose del genere ma che non farò cliccando sotto ci sono 5 minuti da fare poi qua c'è il tempo che scorre più veloce sempre 5 minuti da fare si qua c'è il potenziamento che non vi consiglio di farlo poi come vedete qua a destra ci sono altre abilità che vi spiegherò in breve questa fa curare del 25% tutti i personaggi questa è la radio che lancia una bomba atomica che fa uccidere tutti gli zombie queste invece sono barili di fuoco il gas tank che appunto infuoca gli zombie per un po' di secondi questo recupera del 100% appunto i soldati fa per 30 secondi appunto andiamo al prossimo rivero ragazzi che vi continuo appunto a spiegare le cose e poi possiamo diciamo fare una vera propria partita appunto abbiamo visto questo e adesso andiamo a vedere questo che sono le barriere che bloccano gli zombie e almeno appunto i soldati soprattutto quelli da lontananza hanno più tempo per attaccarli andiamo adesso a provarli proviamo con la radio proviamo con la radio appunto vedremo questo aero che cadere giù appunto con la bomba atomica andiamo invece a provare appunto questo che magari volendo ci potresti fare una barriera e blocchi gli zombie con questo ti migliori abbiamo visto e adesso andiamo a provare questo che brucia i nemici e poi alla fine esplode pure lasciando un po' di fuoco cosa cosa molto ma molto utile andiamo a provare pure questo come vedete poi oltre a migliorare per ben 30 secondi fa anche molto danno in più anche quello del 100% se non mi pare ragazzi poi ci andrò a ricordare meglio e quindi insomma fanno davvero molto 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 danno cosa che vi consiglio utilissima ragazzi e quindi soprattutto quella della cura che è questa qua è molto utile perché conquistietti ricoprate del 25% una squadra che vi consiglio è proprio questa qua perché comunque sia ci sono due da media distanza cioè stiamo parlando di punker e squiller c'è uno da vicinanza che è appunto se non mi ricordo male bad daddy se non mi ricordo male è appunto un cecchino che è da distanza che poi può pure shottare la gente io ancora non ho un cecchino perché è davvero raro da trovare però quando lo troverò ovviamente lo userò direttamente anche perché avendo le armi in più che appunto si vedono poi che ti consigliano per ogni personaggio fanno pure una percentuale di danni in più che adesso dovrò riguardare ed è quindi è anche pure molto utile ragazzi che vi consiglio molto ovviamente come state vedendo ci sono dei boss per esempio questo qua ci sono vari tipi di zombie che forse in un altro video vi andrò appunto a far vedere ma per ora vediamo appunto come va la sfida visto che abbiamo subito un po' di danno vi faccio vedere appunto questa come vedete se io clicco la vita è ritornata durerebbe del 25% e non solo ti fa pure una barriera per tipo 3 secondi che magari può aiutare se uno ti sta facendo proprio in quel momento un attacco davvero forte e quindi sì anche se dura 3 secondi sai che il colpetto di fortuna riesce a parare con che sia quella mossa ok qua abbiamo finito la nostra appunto la nostra battaglia abbiamo di nuovo difeso la zona e adesso vi andrò a far vedere altre modalità un'altra modalità è quella dell'endless appunto te vai avanti appunto per la città e pian piano facendo chilometri e chilometri appunto come potete vedere si prendono carte per migliorarsi oppure factory case possiamo chiamare delle chiave per appunto la cassa o la cassa pesante o il big daddy appunto o variarmi o anche personaggi nuovi andiamo a provarla finirà fra 50 e 6 ore quindi a voi ancora poi ovviamente quando sarà finita vi sommerà il tutto e ve lo darà fra appunto quello che avete fatto ok questa qua poi è abbastanza facile come vedete qua poi ci seleziona inoltre pure lo shop appunto le casse e questo con loro appunto i soldi però questi da comprare attenzione con soldi veri e appunto le armi che si possono vedere quella là è una bella pistola comunque appunto qua gli eroi che puoi migliorare appunto le armi che ce l'ho tutte rare appunto le ho fuse e ovviamente unendole con la stessa tipologia di armi sempre possono migliorare di una stella in più in totale ci sono 5 stelle per sia per gli eroi sia per appunto le armi e devo dire che questo gioco è molto bello qua come vedete starete vedendo non ci sono le monete ma ci sono di dolci diciamo infatti qua con i dolci ci migliorano questi però gli eroi appunto gli eroi e le armi però di questa modalità qua c'è una cosa in più che sono gli endless point che poi avendo in circa 100 point ti possono dare per 2 di token per un minuto per 2 di punto di headshot per un minuto e anche il per 2 di di danno degli eroi sempre per un minuto o se no lo puoi avere per 1200 secondi a 1 euro e 99 scontato perché prima costava 3 euro ok poi adesso sarete vedendo dei piccioni o dei robot che volano allora vi spiego in breve cliccando sui piccioni ti daranno monete gratis se clicchi su quel robot con il pacco ti daranno appunto delle cose per esempio ingranaggi monete oppure pillore o alcune volte anche carte per gli eroi però devi guardare una pubblicità alcune volte ti danno davvero tanto alcune volte pochissimo l'unico fatto che sta è che devi guardare una pubblicità se ti danno tanto ve lo consiglio perché del resto poi una pubblicità che di solo dura 30 secondi eccolo per esempio vedete voi ci cliccate vi darà questa roba cliccate e avrete la pubblicità ma che adesso non cliccherò anche perché mi dava poco e sinceramente non mi interessava quella roba che mi consigliava andiamo in una partita vera e propria direi di incominciare a combattere come vedete qua ci danno già una barriera a essere perché appunto alcune volte ti danno già una barriera senza che te la metti e cominciamo insomma a combattere allora finora sembrerebbe essere tutto a posto siamo già a lord 2 su 7 ah ovviamente un'altra cosa per quanto riguarda le torrette si possono migliorare anche le torrette eppure la rincarnazione con altre pilore altre modalità che si possono fare ragazzi adesso ovviamente non vi starò a dire tutto perché se no è solo un po' di presentazione vogliamo pure giocare allora con gli zombie sono zombie crotori direi subito di lanciare una bella granata e lanciamola questa volta gli zombie sono davvero tanti allora io direi di bloccarli così e di lanciare dei bei missilots che per ora li dovrebbero disintregare questi sono resistenti mi metto una barriera qua va di blocco almeno ok magari li spingo un po' via qua dove sono in più ok e almeno un po' ce ne siamo nemmati direi di metterci una bombetta qua al centro sono tantissimi questa volta allora io direi di aspettare quando sono tutti quanti per lanciare la radio ok credo che la radio si possa mettere sganciamola e disintegriamoli ne rimangono ancora attenzione attenzione non ho calcolato bene questi qua ragazzi però vanno via subito tranquilli ok dai lancio pure una bomba per facilitarli vi dico intanto che il mio eroe preferito è il bunker ragazzi perché è bellissimo tra l'altro ero iniziare eccoci qua ovviamente intanto mi prendo il tutto 120 coins 6.000 scripe 1200 poi abbiamo pure qua ok no questo ancora no perfetto e ovviamente poi il Chicago City si prenderà appunto quando avremo finito Chicago ho notato tra l'altro che hanno messo Hong Kong una città in più mi piace soprattutto il fatto che anche se un gioco un po' diciamo passatempo lo stiano migliorando ecco andiamo un po' allo shop e spacchettiamo ok andiamo che ci troviamo in pompa beh che vabbè non abbiamo trovato molto ragazzi del resto è la prima cassa ci trovano non tante cose invece sull'euro package abbiamo penso molta possibilità di trovare un'arma a 5 stelle allora ragazzi direi che questo video possa finire qua e da patta d'arrostita è tutto ciao